Il reddito di cittadinanza è una porcheria che vizia e invita a succhiare i soldi alla comunità o è uno strumento per reintegrare e tenere immobilitata la forza lavoro temporaneamente libera e impedirle di precipitare fuori dal tessuto economico a svantaggio di tutti? Oggi qui a Progetto Razzia cerchiamo di svisciare un attimo la questione. Buongiorno a tutti e benvenuti a Progetto Razzia. Partiamo dall'inizio, guardiamo la questione a livello teorico. Esistono diverse concezioni in merito a quello che è il reddito di cittadinanza ma innanzitutto vi ringrazio perché alcune riflessioni e alcuni punti che toccherò sono venuti in mente proprio grazie ai vostri commenti e alla chiacchierata che abbiamo fatto sotto il video i giovani sono pigri che non hanno voglia di lavorare quindi vi ringrazio e sostanzialmente toccheremo quei temi e li approfondiremo andremo in alcune direzioni che non avevo toccato che superficialmente la volta scorsa. Partiamo subito. C'è chi ritiene il reddito di cittadinanza come una sorta di micro stipendio necessario e che debba essere ad esempio pensato per coprire le spese di diritti fondamentali e vado dato a tutti quindi una sorta di stipendio sufficiente a pagarsi cibo e casa ad esempio per tutti compreso a chi lavora e chi ritiene che vado dato solo a chi non lavora chi ritiene che debba essere un vero stipendio che debba sostituire sostanzialmente tutte le preoccupazioni dello stipendio normale ma dato temporaneamente a chi non lavora, chi ritiene che debba essere dato a tutti eccetera eccetera Diciamo che in generale, rimanendo sul piano più teorico e definitorio possibile si intende per reddito di cittadinanza un reddito dato dallo Stato in modo continuo e che sia svincolato dalla partecipazione ad un processo produttivo nelle sue varie interpretazioni che ripeto sono moltissime perché come vedete il concetto è abbastanza ampio da poter essere declinato in un miliardo di modi diversi ha conosciuto e conosce un certo grado di diffusione dall'estrema sinistra all'estrema destra passando un po' dappertutto in centro a sinistra piace pensare che l'idea di un reddito svincolato dal rapporto con la produzione possa essere uno strumento per liberare il lavoratore dalla costruzione del lavoro in tal senso quindi è visto come una possibilità emancipatoria in modo simile anche a destra qualcuno ha tentato di collegarlo ad esempio da alcune riflessioni di Pound e alla sua idea di liberare l'uomo dall'ansia e che, famosa citazione di Pound il tempo libero sia libero davvero se è senza ansia intendendo con questo dire che il disoccupato e il sottooccupato in realtà poverini non hanno tempo libero perché il tempo che non stanno lavorando lo stanno passando a capire come risolversi i problemi concettualmente in realtà anche molti settori del capitalismo più avanzato sostengono l'ipotesi del reddito di cittadinanza ed è la ragione per la quale sono relativamente convinto che ad un certo punto tale meccanismo diventerà massivo all'interno dei paesi capitalisti perché in realtà tale reddito dal punto di vista capitalistico ha un enorme vantaggio cioè può permettere facilità la trasformazione del lavoro in mano d'opera a disposizione che è la grande questione che toccavamo nello scorso video ma che stavolta vedremo sotto un lato diverso mi spiego il lavoro come fenomeno sociale il lavoratore come attore sociale sono caratterizzati dalla continuità e dalla presenza all'interno della dialettica produttiva e infatti Marx diceva che proletari e sottoproletari non sono uguali anzi tra proletario e sottoproletario cambia tutto perché il sottoproletario non confrontandosi in maniera organica e continua con il lavoro sviluppa delle categorie completamente diverse e questa continuità regala anche una certa capacità di trattativa da parte del lavoratore nei confronti del capitale perché nel rimanere sempre all'interno del mondo del lavoro acquisisce più professionalità, più preparazione quindi tendenzialmente diventa meno sostituibile quella cosa non è proprio così facile ma va bene diciamo che esiste anche una questione di velocità di testo tecnico della tecnologia e di capacità di sostituire la mano d'opera che a mio avviso oggi è quasi il contrario cioè la tecnica è più veloce di quanto la mano d'opera non possa adattarsi quindi rimarranno sempre più persone escluse ma in ogni caso anche questa cosa aumenterebbe le possibilità che si debba risolvere il problema generando una sorta di reddito di cittadinanza concettualmente invece il reddito di cittadinanza è la promessa ideale per un contesto giga economy massiva dove il rapporto tra lavoratore e produzione è sparpagliato, puntuale e senza continuità reddito di cittadinanza significa infatti che avrai diritto a questo reddito se tu rimarai pronto ad accettare le offerte di lavoro e quindi rientrare a richiesta nel tessuto lavorativo il grande capitale a quel punto sapendo che esiste una enorme massa sempre disponibile e mobilitate da cui pescare potrà letteralmente usarti per un progetto di tre giorni rimandarti sul divano a guardare Netflix a prendere il reddito di cittadinanza e poi richiamarti se gli serve tra un mese nel frattempo tu sarai obbligato ad esempio a formarti per mantenere il tuo reddito o rispettare tutta una serie di regole che ti porranno che concettualmente potrebbero anche non essere lavorative ma anche sociali, ideologiche inoltre considerato che come sappiamo tendenzialmente il grande capitale non paga le tasse sappiamo già che il reddito di cittadinanza rischia di diventare un'enorme spesa per trasformare il lavoro e il lavoratore in manodopera a disposizione ma sulla schiena della piccola media impresa che non è in grado di evadere come invece può fare il grande capitale o di eludere, che sarebbe più corretto perché l'evasione e l'illusione sono due cose diverse l'evasione è fisicamente infrangere la legge e l'illusione, che è tipica del grandissimo capitale è costruire un meccanismo paralegale in cui sostanzialmente è discutibile il fatto che tu abbia rispettato la legge ma formalmente tu le rispetti a vantaggio di questa trasformazione il grande capitale approfitterà invece del fatto che le PMI dovranno pagare questa trasformazione e a propria volta, tra l'altro pagandola si renderanno sempre meno competitive sul mercato questo processo è famoso dai tempi del capitale e si chiama accentramento del capitale non a caso Marx parlava di queste incapacità di alcuni settori del capitalismo di rimanere sempre adatti alla trasformazione parlava di capitale residuale cioè chi rimane all'esterno comincia ad avere sempre meno vantaggi nel tessuto produttivo e secondo alcune interpretazioni ad esempio quella fascista paradossalmente poi alcuni settori del capitale più esterno alcune piccole e medie prese alcuni tipi di imprenditori sono più vicini concettualmente ai lavoratori ai proletari rispetto al capitalismo cosa che a mio avviso è anche intuitivamente logica cioè il fornaio che ha quattro dipendenti qua sotto è più vicino a me dipendente o a Amazon perché anche lui è un imprenditore direi che è più vicino a me quindi per me comunque concettualmente il reto di cineranza in un contesto capitalistico genera questo male ecco perché sostanzialmente la leva con la quale si può sbriciolare l'idea di lavoro polverizzarlo renderlo mano d'opera fluida sempre a disposizione a spese dei settori più marginali del capitale quelle piccole e medie imprese che però sono anche i settori più sopportabili del capitale perché tendono a ridistribuire la ricchezza sul territorio tendono ad essere meno capaci di evadere tendono ad avere un rapporto diverso di legame con il lavoro tendono ad essere più legate alle competenze acquisite quindi a licenziare di meno o con più difficoltà l'unico vero problema forse delle piccole e medie imprese è che tendono a comprimere i salari più possibile perché è la loro unica leva per cercare di rimanere sul mercato e questo ovviamente non è bene mentre il grande capitale qui in questo caso da questo scenario ha solo vantaggi e non paga sostanzialmente nessun prezzo diverso discorso ovviamente sarebbe concettualmente un reddito di cineranza in un contesto non capitalistico che sia non so, corporativistico che sia socialista in senso stretto è ovvio che questi problemi in altri contesti non ce ne sarebbero probabilmente ce ne sarebbero altri che non ci riguardano a questo punto direi attenzione anche al fatto che se ce lo raccontano attenzione al fatto che in base a chi ce lo racconta dobbiamo riflettere nel senso che anche se qualcuno ce lo racconta come uno teorico strumento di liberazione non significa niente perché a farlo tendenzialmente è quel grandissimo capitale proprietario che come insegna The Board è il proprietario della società dello spettacolo e la società dello spettacolo è raccontare l'inversione della realtà tuttavia, poi vedremo perché, non è che chi è contrario al reddito di cineranza abbia particolari ragioni nel contesto italiano ma vedremo perché ricordiamoci comunque che tutte le trasformazioni del lavoratore quindi ad esempio da schiavo a proletario sono avvenute perché il capitale ha trovato vantaggi in questa trasformazione lo schiavo ad esempio era un asset per il proprietario ma era anche un costo perché è tua proprietà sempre in quelle 24 ore mentre ad esempio, quindi ad esempio i tuoi interessi, se ne hai 100, che siano relativamente in salute mentre ad esempio il proletario, cioè la nascita dell'operaio, la nascita del proletario è diversa perché tu sei preoccupato delle 8 ore che lui fa fisicamente nella tua azienda poi se fuori, si ammala e muore, è un problema suo ti interesserai eventualmente solo in base a quanto è difficilmente sostituibile però la nascita del figlio del proletario ha alleggerito della spesa il padrone che ti paga solo le 8 ore che tu entri in fabbrica poi il padrone è un termine che non mi piace assolutamente perché toglie il lato oggettivo della cosa quindi bisogna parlare di capitale e tu devi essere di salute in quelle 8 ore, operativo in quelle 8 ore poi se crepi, se non è tempo di vedere i tuoi figli, non gliene frega niente a nessuno, sono cazzi tuoi l'eccezione della nascita dello stato sociale o delle masse mobilitate che hanno ottenuto diritti sono eventi casuali e legati a sconquassi storici come le due guerre mondiali, in particolare la prima non dimentichiamo che tutti gli esperimenti rivoluzionari in Europa, socialisti e fascisti sono nati dopo la prima guerra mondiale, punto o in misura minore la seconda guerra mondiale che ha comunque costruito lo stato sociale in maniera diffusa anche in paesi dove prima non esisteva non è il caso dell'Italia perché nel caso dell'Italia lo stato sociale inizia prima il passaggio successivo da schiavo a proletario a lavoratore è quello della gig economy in quanto mano d'opera a disposizione, cioè perché il padrone o il capitale pensa devo pagarti 8 ore al giorno quando posso pagarti esattamente i secondi in cui ti sto utilizzando e rimandarti a casa quando non serve o magari sei già a casa perché sei in smart working soprattutto se la spesa di qualcun altro la gig economy è visibile quando è applicata in alcune mansioni come Glovo ma concettualmente si può estendere al 99% delle funzioni lavoratrici il problema è capire come farlo ovviamente in quanto lavoratore il capitale ti assume e ti paga le 8 ore al giorno ma ad esempio considerato oggi pause e cazzeggio probabilmente su 8 ore che ho visto in azienda non lavorate più di 6 ore con la gig economy questo problema è risolto perché l'incrocio di nuove tecnologie, dei big data e degli strumenti economici come il reto di cittadinanza permettono al capitale di sbriciolare le mansioni in modo che siano ridotte nella loro mansione più semplice e a questo punto il capitale può dire boh guarda io ti pago solo sulla base delle pizze che porti sulla base delle righe di progetto che hai scritto sulla base delle righe di codice che hai scritto e poi non mi servi 8 ore al giorno se mi servono 3 righe di codice io ti pago 3 minuti e mezzo di lavoro e ti pago esattamente i minuti che fai qualcosa che genera i valori questa ovviamente ha conseguenze sociali enormi e ripeto all'interno del sistema capitalistico non mi sembrano particolarmente positive quindi mi si dirà sei contrario al reto di cittadinanza? mi, ovviamente perché la questione come tutte le cose calata in realtà poi diventa più complessa perché il problema è che chi è contrario in Italia ad esempio tendenzialmente è contrario non per motivi sociali ma perché è il referente politico dei segmenti del capitale che vengono indeboliti dal reto di cittadinanza quindi piccole industrie, artigianato, turismo, settore della ristorazione interi settori che sono basati sostanzialmente su stipendi bassi e sfruttamento settori che non riescono a rimanere al passo col grande capitale e quindi temono questa forma di innovazione economica perché sanno che li distruggerebbe tuttavia a loro volta non è che loro sono interessati o sono mai preoccupati negli ultimi 50 anni di tutelare il lavoratore vogliono solo poterlo sfruttare come si sfruttava 20 anni fa e non in modi che per loro sono più scomodi meno ottimizzati o che allontaneranno la capacità di estrarre il plus valore per loro quindi sti cazzi benvenga in Italia il reto di cittadinanza perché ha mostrato che evidentemente interessi a tutti della nostra economia se si reggono sul non pagare i lavoratori senza entrare troppo nel dettaglio molto probabilmente non sono sani non ci vuole un genio per capire che se sinceramente un'intera fascia di lavoratori preferiva prendere 700 euro al mese di reddito di cittadinanza per non andare a lavorare significa che i lavori ai quali accedeva erano lavori pagati 700 euro al mese o meno esisterà probabilmente sicuramente una terza via qualche proposta qualche riflessione alternativa che cercheremo di affrontare più avanti ma il punto è questo ecco questa è la mia prima chiacchierata sul dettaglio di cittadinanza tuttavia sono molto curioso di sentire le vostre perché la questione si presta a mille riflessioni a mio avviso il punto fondamentale è che ad un certo punto deve essere introdotto qualcosa del genere e il punto è se si è a favore perché se si è contrario perché a chi è contrario e perché è contrario e se esistono meccanismi per torcerlo in maniera più positiva meccanismi che al momento mi pare che il dibattito politico non abbia neppure provato ad affrontare magari ci proveremo qui vi ringrazio e alla prossima razzia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti